Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze ed eccovi ritornate in questo nuovo video, io sono Angela e oggi parleremo di Tentation Island VIP che ben presto aprirà i battenti sull'isola più tentata d'Italia. Ma parliamo un attimino delle prime anticipazioni che ci arrivano proprio sull'isola Sarda e parliamo di una coppia veramente che sarà scoppio e tante Antonella e Lia e Pietro delle Piane. Saranno una delle coppie più esplosive mai passate proprio a Tentation Island VIP e NIP perché quest'anno ragazzi ci saranno coppie miste sia famose che non. A raccontare quindi un retroscena proprio che riguarda questa coppia molto folle chiamiamola così è il blogger Amedeo Benza che ha narrato che la sugar torinese e l'attore dopo pochi giorni di permanenza proprio nel villaggio Sardo sarebbe affrontando un periodo di crisi addirittura Antonella e Lia dopo pochissimi giorni avrebbe chiesto il falò di confronto col suo finanziato Pietro cosa che lui non avrebbe accettato. A far perdere le staffe proprio all'ex G e Fina è stato un atteggiamento allucinante così si legge nel blog proprio di delle Piane che si sarebbe avvicinato in un modo troppo intenso a una tentatrice. In presto scopriremo che cosa avrà combinato Pietro ma di certo non eravamo sicuri che questa coppia avrebbe fatto scintille. Ne parliamo anche di un'altra di una piccola indiscrezione che ci è arrivata sempre da questo blog e stiamo parlando della coppia NIP formata da Valeria e Chavi. Loro due si sarebbero già lasciati. E come succede avrebbero lasciato immediatamente l'isola per far al fronte nuovamente di una nuova coppia. Che cosa accadrà lo scopriremo presto perché manca veramente poco per Tentation Island VIP.